Perché sono nuovo in Italia, quindi non posso parlare italiano molto bene Quanto guadagni con questa bancarella sui navigli? Depende, perché se ho un cliente ho un buon cliente, se non ho un cliente ho un buon cliente, se non ho un cliente ho un sito tutti i giorni Più o meno? 50 euro, 40 euro, così